E' stato presentato ufficialmente domenica sera presso la sede dell'Associazione Tirrenoi il Movimento Giovanile Replay Faiano. Un momento importante di confronto arrivato una settimana dopo la presentazione di Replay Ponte Cagnano, utile ad illustrare i progetti e le idee in cantiere per i prossimi mesi. Noi siamo partiti già la settimana scorsa, ripartiamo dal protocollo delle carte fatte al Comune, lunedì sera da Mai Pompeo, il coordinatore di Ponte Cagnano, io ricordo che sono il coordinatore di Faiano. Abbiamo protocollato i nostri otto punti ricordando quello che abbiamo intenzione di fare. Sono liberi a tutti su Facebook, sulla nostra pagina Replay Movimento Giovanile. Adesso siamo in procinto di incontrarci con le varie associazioni per iniziare la nostra rete associativa e per iniziare un discorso ampliato a tutte le associazioni e portare avanti i nostri progetti. Se non sbaglio c'è un carro di carnevale già pronto? Sì, sì. In preparazione? Visto che il carnevale è imminente ricordiamo anche che stiamo allestendo insieme all'Associazione Sviluppo il carro allegorico di Faiano. Al carnevale usciremo anche con il nostro carro. Poi volevo ringraziare il presidente dell'Associazione Sviluppo Marco Erra, il consigliere delle politiche giovanili Gaetano Nappo, il nostro sindaco che ci ha fatto gli auguri per il nostro movimento giovanile. Siamo qui alla sede di Faiano con il coordinatore di Faiano Umberto del Giudice. Infatti ci stiamo già preparando per il carnevale perché è veramente alle porte con il carro allegorico. Ringrazio anche l'Associazione Terri Noi per averci prestato la sede per fare questa conferenza qui sempre a Faiano. Abbiamo già protocollato otto punti che vogliamo già mettere in essere come progetti di cui alcuni già sono in sviluppo. Ci vuole raccontare qualcuno? Sì, una novità quest'anno sarà l'evento che porteremo, il magazzino Summer Festival, che sarà un evento nuovo. Anche perché nella zona dove lo andremo a fare sarà una novità anche la location, proprio perché sarà fatta su uno spazio del magazzino, quindi la parte un po' litorale di Ponte Cagnano. Anche per riqualificare un po' quella zona perché comunque deve diventare la nostra punta di diamante sul turismo e sulla bagnazione perché comunque ha tanto tanto da dare. Io credo che la nascita di nuovi movimenti, seppur collegati ad associazioni molto storiche, molto attive sul territorio Faiano-Ponte Cagnano, come associazione di sviluppo, sia un evento da sponsorizzare e di andarne fieri. Conoscendo Pompeio, Umberto, il fratello di Pompeio, sicuramente conosciamo la loro dedizione, il loro impegno, la loro voglia di creare nuove iniziative, e nuove eventi, non possiamo che esserne gioiosi e fiduciosi. Sicuramente il movimento Replay potrà collaborare in modo prosperoso con il forum di Ponte Cagnano-Faiano. Avendomi come referente della sezione Faiano, questo potrà solamente aiutare i rapporti tra forum e la nascente movimento Replay.